Con le moderne tecniche di insegnamento e di apprendimento, sia della musica classica che la direzione d'orchestra, ormai i direttori d'orchestra sono diventati al giorno d'oggi onnivori, non più come nel Novecento molto selettivi. Assolutamente. È capitato anche a lei? Oppure quali sono i suoi... Le mie poste. Devo dire che assolutamente proprio sono reduce da un concerto che abbiamo fatto per la RAI neanche 20 giorni fa, in cui mi sono trovato a dirigere tutte le colonne sonore di film, che è una cosa anche un po' strana, perché di solito per la nostra preparazione, tra virgolette, classicheggiante, noi saremmo anche tenuti, per un motivo quasi potremmo dire deontologico, no? A rispettare quella che è la sacralità della musica, perché chiaramente la musica classica e la musica classica, la musica da film o comunque la musica, possiamo dire, un pochino più commerciale e di tutt'altro genere. Ma, come dico sempre, la musica deve in un certo senso assecondare quello che è il gusto delle persone che ci vengono a vedere e quindi effettivamente ormai tutto si sta muovendo, tutto si sta trasformando e quindi è anche giusto che noi direttori d'orchestra alla fine in un certo senso rispettiamo quello che sono i desiderata del pubblico e quindi dobbiamo in un certo senso diventare, come lei giustamente diceva, onnivori. La cosa importante secondo me è portare sempre con noi quello che abbiamo fatto, il nostro studio, la nostra passione per la musica, per il classicismo, che ovviamente deve temprare qualsiasi cosa che noi facciamo. E poi forse aprirci alla modernità non ci fa male, ma anzi porta quel qualcosa in più di frizzante che magari fa restare sulla sedia cinque minuti in più chi ci viene a sentire.